Hello everyone! Ragazzi non sapete quanto mi sono divertita a registrare e a montare il video di oggi Ho chiesto ai turisti 4 most famous italian blah 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 4 categorie La persona italiana più famosa, viva o morta di tutti i tempi secondo loro Il piatto italiano più famoso La parola italiana più famosa E il nome italiano più famoso Alcune risposte sono state stupende Direi di iniziare Michelangelo Massimo Massimo! The Emperor! Nooo! The Netflix film! Massimo! 365 days! Massimo! From Netflix! Mussolini! Maybe Alessandro Del Piero Alessandro Del Piero Who's that? Is it a football player? Alessandro Del Piero What's his name? Franco Baciato! I love Franco Baciato I love your answer! Favorite song is Paloma Claudio Ranieri Gucci Al Pacino Giorgio Chiellini Son Boy Oh god! One of the Gucci family? Just because we watched the film really recently Silvia Berlusconi That's the first thing I can pick up Michelangelo Yeah Mussolini Yeah That's what I heard Oh I don't know Napoleon Oh well There's so many people that went through my mind Well obviously Michelangelo God you're putting me on the spot here now I mean the Pope Oh god Versace? Michelangelo Yeah Caesar I would say But he's a Roman But I guess Caesar Same thing Really? Yeah Nero Wow We don't know David Beckham is Italian No No Ciacio Amani Andrea Pielo 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 Oh That's a good question I don't think I own it I don't think I own it either No? No one? Pielo I don't think I'm going to say Mikel Amazzotti Miquel Amazzotti Miquel Amazzotti Miquel Amazzotti Miquel Amazzotti Papa Papa Erros Ramazzotti The singer and writer Succher Succher I don't know if he's Italian Pirlo Yeah He's Michelangelo That's what I was going to say Yeah I can only think of Italian Americans I mean Sophia Loren ma stavo pensando solo su Fagino Leonardo da Vinci bello Chiara Ferrani? Sì, sì Sì, è la prima persona che penso di una famosa persona italiana Ah, probabilmente Michelangelo non sarebbe stato possibile se non fossi stata in grado di parlare l'inglese Cambly è una piattaforma di e-learning dove potete appunto imparare l'inglese facendo conversazione e lezione con insegnanti madrelingua che sono disponibili 24 ore su 24 365 giorni l'anno I prezzi di Cambly sono davvero competitivi e potete trovare abbonamenti per 1, 3 o 12 mesi e mi raccomando con il mio codice trovate il 50% di sconto sugli abbonamenti annuali Inoltre, sempre con il mio codice avete una piccola lezione di prova gratuita quindi io vi direi di assolutamente fare la lezione di prova gratuita perché non costa assolutamente niente Io anche uso Cambly qualche volta per mantenermi in allenamento parlare, fare conversazione con madrelingua è stimolante, divertente e utile Per quanto riguarda il livello Cambly è adatto a tutti i tipi di studenti Beginners, Intermediates, Advanced Io intanto vi lascio tutti i link qui sotto e vi ripeto la lezione di prova gratuita Why not? Torniamo al video Carbonara Pasta Pizza Spaghetti Capri Salad Spaghetti Bolognese Pizza All my favorite foods Carbonara One of my favorites is carbonara I love Italian food in general Pizza Or pasta Carbonara Okay, I mean I guess you're good at pizza and pasta With a creamy sauce, like a carbonara or something like that What was the one that we had yesterday? Carbonara Pizza 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 Tiramisu Yeah, sweet Carbonara Margarita Pizza Love it Pasta Carbonara I can't wait to try some risotto I can't wait to try some risotto I haven't tried any risotto yet so that's what I'm looking for Any kind of pasta dish? Let's go with a bolognese Spaghetti Probably pizza Pasta Pasta Carbonara Pasta Pizza Yeah, pasta Tiramisu Gelato Pasta Comodoro Pizza With salami Okay Basic Spaghetti Bolognese Good night Pettuccine Alfredo Lasagna Pizza Pizza Spaghetti I don't know Pizza Spaghetti Risotto Salad Brunchetta Spaghetti Spaghetti Bolognese Bolognese Carbonara Risotto I don't know Pizza And pasta Carbonara Yeah, pizza, of course I would say pasta With just like fish Yeah Carbonara Ciao Bella Grazia Buongiorno Ciao I could say my favorite Okay My favorite cazzo Bambino Ciao Prego Okay Prego I was going to say another word but I don't want to say it on TV Bella Ciao Bella I was going to say ciao Cazzo Okay Buongiorno Oh yeah, people say that a lot and it sounds really polite and then lovely, yeah Mamma mia Ciao Everybody says ciao Grazie Uh, prego Uh, prego Bellissima Oh, I like that Mamma mia Mamma mia Ciao Bellissima Arrivederci Okay, that's difficult Ciao Ciao Basta Prego Ciao Ciao Si Amor Grazia Ciao You asked me this today, didn't you? You said mamma mia Buongiorno 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 Arrivederci Grazie Ciao 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 Ciao, probably, yeah Because we say it in Austria, too I can't even think of her name, Isabella Stefano Al Pacino Vito Vito Carleone It's like Giorgio Luca That's my dog's name Federica Is it Carlos in Italian? Yeah, Carlos Yeah, Carlos Yeah, Carlos I don't know Benedicto Russo Russo Is that popular? Russo R-U-S-S-O It's a last name Last name, yeah Oh, it's a first name Giulia Antonio My name's Maria So I'm Maria Antonio Giacomo I just have Pedro But that's... It's more Spanish than... Maybe Pietro Margarita Luigi Mario Luigi We don't know Italian names Giovanni Roberto Bruno Yeah, Bruno for me Antonino Sabrina Francesco Yeah, that's what I go with Francesco Totti Roberto My dad Emilio Emiliano Alessandro Alessandro Yeah Yeah Lorenzo Something like this Ragazzi, grazie di aver guardato, spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento, con un like e iscrivetevi e condividete! Voglio che questo canale cresca! Ciao! Ciao! Ciao